Ecco, è terminata l'esibizione, è terminata l'esibizione qua verso gli impianti sportivi della casa circondattiva di Lanciano. È terminata l'esibizione, oggi nell'ambito del programma della campagna Bambini dietro nel padre. Ecco, ecco, terminato. Ecco, è terminata l'esibizione, nell'ambito della campagna Bambini dietro nel padre. Ok, a posto. Ok. So, fatteneci bisogno, fanno freddi. So, concludete in bellezza voi. So, mettetevi le giuppe, so, che fanno fresca. Sì, non c'è.